Mazda MX-5, basta solo il nome per far palpitare il cuore degli appassionati di auto sportive. Grazie ad una storia lunga oltre un quarto di secolo e a circa un milione di modelli venduti in tutto il mondo. Per la quarta generazione della Roadster nipponica, Mazda propone una vettura totalmente rinnovata, dentro e fuori, con una linea moderna e dinamica che non rinnega però il passato, dimensioni e peso ridotti ed un progetto sviluppato in collaborazione con il gruppo FCA, che ha portato alla nascita anche della nuova Fiat 124 Spyder. Dotata di una capote manuale, la nuova MX-5 ha un equipaggiamento di bordo di tutto rispetto, fari a LED, sistema multimediale con schermo da 7 pollici, rivestimenti in pelle e sensori di distanza posteriori, mentre la scelta tra i propulsori è limitata a un 2.0 da 160 CV e a un 1.5 da 131 CV. Proprio quest'ultimo è oggetto della nostra prova, un motore compatto e potente, forse un po' fiacco ai bassi e medi regimi, ma che ripaga con brillantezza e grinta sorprendenti man mano che la lancetta dei giri motore sale. La velocità massima raggiunge infatti 204 Km orari e lo scatto da 0 a 100 è completato in poco più di 8 secondi. In grado di garantire un feeling di guida di livello assoluto, Mazda MX-5 è paragonabile a supercarben più nobili e costose, con un'aderenza eccezionale ed una risposta fulminia alle nostre sollecitazioni. Insomma, anche con un semplice propulsore 1.5 ci si può divertire.